Charles Grant, grazie per essere con noi. Abbiamo visto che Theresa May ha messo sul tavolo una nuova proposta che prevede agli europei che vivono nel Regno Unito da cinque anni di poter restare. Questo significa che la sua posizione si sta ammorbidendo in qualche modo? La sua linea è per una hard Brexit. Le proposte che ha avanzato sui diritti dei cittadini dell'Unione in Gran Bretagna erano molto attese. Sono più o meno in linea con quanto previsto dall'Unione Europea, ma non è sufficiente per la UE, come ha sottolineato Angela Merkel. È un inizio. Credo che si negozierà su questa base. Il divario tra le due parti non è la distanza geografica. Questo sarà uno dei problemi più facili da risolvere, perché da entrambe le parti, per i tre milioni di cittadini della UE che vivono in Gran Bretagna e l'uno o due milioni di inglesi che vivono nell'Unione Europea, ci sono motivi validi per trovare un accordo e rassicurare queste persone. E per quanto riguarda invece le previsioni economiche del Regno Unito? L'impatto della svalutazione della sterlina del 15% sta spingendo l'inflazione. Gli investimenti stranieri diminuiscono un po'. I consumi sono andati abbastanza bene, finora perché la gente spendeva, ma non possono continuare per sempre e penso che si possa andare incontro ad una crisi economica. In particolare quando verranno resi noti maggiori dettagli dei negoziati sulla Brexit e circa il nostro futuro rapporto con l'Unione Europea, che sarà meno strettamente legato economicamente al passato, la fiducia delle imprese subirà un certo calo, che influenzerà la fiducia dei consumatori. Ci sarà un rallentamento dal punto di vista economico. Come vedi i flussi commerciali tra l'Unione Europea e il Regno Unito? Stiamo andando verso un hard Brexit o una Brexit morbida? Penso che quasi certamente stiamo andando verso una hard Brexit, ma il risultato elettorale generale, che ha indebolito la Premier May e ha rafforzato le forze più moderate in Parlamento, significa che potrebbe anche essere più morbida e più moderata di quanto inizialmente si era previsto. Certamente avremo modeste restrizioni in fatto di immigrazione e potremo essere meno dogmatici nel rifiutare un ruolo per la Corte di Giustizia Europea.